mi chiedo sempre come saranno fatti c'è la forma proprio se sono alti oppure se sono bassi se si possono toccare se invece sono solo energia forse non c'è una cosa che forse ti farebbe piacere vedere un nostro amico che lavora al ministero dice che il governo è già d'accordo con loro sbarcheranno presto che andrà tutto bene insomma che sono pacifici a sei dita uno uno è lungo è un rettriano stai lontano perché sono mossi da impulsi sessuali stai attento mi si appoggia dietro non deve avere paura degli alieni andrà tutto bene avevano detto che arrivavano ma io non credevo che fosse così che se si potesse trovare così bene insieme io avverto una forte negatività in te dovresti aprirti e abbandonarti un po più alle energie positive astrali no 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 Grazie a tutti.